Il 29 luglio ricorre l'ottavo anniversario del rapimento a Raka in Siria di padre Paolo Dall'Oglio, un uomo, un gesuita impegnato nel dialogo interreligioso, quel dialogo che a distanza di otto anni rimane la sua eredità e che ha dato vita a diverse iniziative come quella organizzata per domani sera al centro islamico di via Bencivenga a Verona. Abbiamo dato il titolo Il Rischio della Speranza, è una serata di memoria, di testimonianza, di meditazione e di preghiera interreligiosa facendo memoria di padre Paolo Dall'Oglio, missionario gesuita scomparso, proprio otto anni fa domani, saranno otto anni in Siria per il suo impegno per il dialogo interreligioso e per la pace, ma anche vogliamo ricordare tutte le persone scomparse, fatte sparire perché scomode, difensori dei diritti umani, della pace e tanti attivisti nel mondo. La serata è promossa dall'Associazione Amici di Dermar Musa, Combonifem, il Consiglio Islamico di Verona, la Famiglia Comboniana, Le Due Facce, Lampa di Smidia, il Monastero del Bene Comune, Nigrizia, l'Associazione Ponti per lo Scambio Culturale, il Segretariato per le Attività Ecumeniche e l'Ufficio Ecumenico della Diocesi di Verona. Un appuntamento davvero sentito. Secondo la volontà proprio di Paolo non vogliamo concentrare la serata sulla sua figura, ma vogliamo estenderla facendo memoria di tante persone. Pensiamo oggi ai giovani in Nigeria che sono rapiti, pensiamo a tanti attivisti, ma anche religiosi e religiose nella Repubblica Democratica del Congo, tantissimi attivisti in Colombia, persone che sono veramente messe da parte perché scomode, perché leader, perché capaci comunque di mobilitare intere masse di persone, farle pensare con la loro testa e insieme cercare di trasformare una realtà che è sempre più ingiusta e che fa soffrire sempre più persone nel mondo.